ho rimesso in funzione il mio vecchio vcr che saranno anni saranno anni anni che non lo mettevo più in moto e non c'era verso di di inserire la cassetta con questa vecchia cinghia non andava non prendeva la cassetta si bloccava questi qui si fermavano qui non andavano fino in fondo e non c'era verso ho provato a cambiare questo qua con un semplice elastico adesso va ho provato semplicemente a mettere questo elastico al posto di questa vecchia cinghia che c'era prima ho fatto una prova e adesso funziona perfettamente adesso nell'attesa che mi procurerò un'altra cinghia almeno va perfetto un'altra cinghia